Ciao! Allora, ho pensato di fare un video prossimamente in un'ora sulla mia collezione di borse di Robin Hood ovviamente lo conoscerete questa è una pochettina questa è della Sardegna io sono stata in Sardegna qualche anno fa e mi sono innamorata della Sardegna ho lasciatela un petto di qua questa è una pochettina carina come potete vedere Robin Hood Robin Hood con questo sissacca e nulla prossimamente la mia collezione di borse di Robin Hood ciao!